e passo la parola alle conduttrici della giornata quindi le giornaliste Barbara Racchetti giornalista di Donna Moderna e Marika Latella che è responsabile tv col diretti e che ringrazio infinitamente perché oggi ufficializza che non è solo giornalista ma è anche fibromialgica e quindi ti ringrazio di avere colto questa occasione per dirlo ringrazio tutti buon pomeriggio e grazie di tutto ben trovati buongiorno anche da parte mia da Barbara Racchetti è un piacere trovarvi e colgo l'occasione per ripetervi che la giornata mondiale della fibromialgia sarà ufficialmente il 12 maggio e saremo di nuovo ancora qui tutti insieme per parlare di un altro tema importante che è il tema del lavoro oggi invece siamo qui per vedere insieme il primo docufilm sulla fibromialgia si intitola Ad Maiora il titolo vuole essere un auspicio per il futuro noi siamo qui per anticiparvi le domande che sicuramente avrete anche voi su questo film per parlarne con gli autori quindi colgo solo l'occasione un attimo per salutare gli esperti che sono qui con noi a vedere il film un buongiorno a tutti e benvenuti dopo avremo modo di parlare anche con voi e sicuramente di conoscere da voi le tante risposte che verranno anche dai nostri ascoltatori dalle tante tantissime persone che ci stanno seguendo entriamo quindi subito per non perdere tempo nel tema del film il film è il primo docufilm sulla fibromialgia prima non c'era perché la malattia per lo stato italiano neanche c'è quindi noi siamo sicuramente fiduciosi che anche da questo momento sia possibile per tutti conoscere la fibromialgia e quindi non dire più noi non sappiamo che cos'è Federico Liguori abbiamo qui con noi il regista giovanissimo alla sua prima prova una prova importante l'argomento sicuramente non è soft è un tema impegnativo tu ti sei voluto cimentare in questo in questo tema perché in famiglia la fibromialgia ha impattato ha impattato nella tua vita molti molti ragazzi della tua età forse avrebbero fatto una scelta diversa ci vuoi dire quindi perché hai deciso di realizzare questo film buongiorno a tutti innanzitutto ringrazio per la presentazione sì io ho realizzato questo film che appunto è la mia prima opera innanzitutto perché appunto è un argomento sicuramente importante che ancora non è stato trattato come avete detto giustamente e sì in famiglia avendo una persona appunto che soffre di fibromialgia ho iniziato a conoscere questa cosa in modo diciamo naturale pian piano ho scoperto sempre di più essendo appassionato avendo fatto appunto il liceo artistico con indirizzo audiovisivo volevo cimentarmi in qualcosa e essendo appassionato di documentari ho sicuramente pensato che questo fosse un argomento da trattare in generale e in primis perché si tratta di persone che non hanno purtroppo per per lo stato italiano i diritti che dovrebbero avere e quindi io l'ho è stata sicuramente una sfida cioè l'ho trattato come una sfida ma mi ha fatto molto piacere innanzitutto poter dare voce a insomma il più possibile a queste persone che appunto vengono trattate quasi come se si inventasse stessero inventando quello che gli succede non vengono non vengono credute viene detto che magari hanno problemi diciamo psicologici o di altra natura e quindi ho cercato di fare questo film che non vuole essere un film scientifico nel senso io non sono un medico non ho competenze mediche ma volevo per l'appunto dare voce poter dare uno spazio alle persone che hanno questa malattia grazie anche a Cristina che è qui con noi che dopo parlerà che diciamo ha recitato ha recitato in una parte che vedrete e anche grazie soprattutto sempre in questo ambito a Marianna Orlando che ha fatto il make up e il body painting per rendere visibile quello che diciamo è invisibile infatti il sottotitolo è vittima di una malattia invisibile perché non si vede è questo diciamo il problema più grande che è una malattia che non si vede quindi i malati di fibromialgia vengono quasi considerati dei pazzi ecco e questo è questo io spero di aver mostrato quello che i malati vivono e spero che possa sensibilizzare ecco era questo diciamo il mio scopo Buonasera a tutti io come diceva la Presidente Barbara sono sì una giornalista ma in primis sono una fibromialgica quindi sono particolarmente coinvolta e anche un po' emozionata stasera la mia domanda è per Cristina perché volevo chiederle tra poco ti vedremo recitare in questo docufilm vediamo tutti che sei una bellissima modella e attrice ma quello che volevo chiederti è tu ovviamente lavori con il tuo corpo con la perfezione fisica si può dire hai dovuto tacere per molto tempo questa tua diciamo condizione ecco come sei riuscita però a trovare la forza di dirlo di avere il coraggio di uscire allo scoperto e quanto ha impattato questa tua diciamo fibromialgia sul lavoro ti ringrazio per la domanda ciao a tutti e grazie soprattutto per l'occasione che mi date di parlare di questo per me è stato un vero e proprio coming out partecipare al progetto di Federico perché io per anni ho diciamo ho recitato sulla fibromialgia nel senso che mi sono studiata tutta una serie di meccanismi proprio per non doverne parlare in primis non solo per il giudizio no e soprattutto per l'impatto che temevo avesse sul mio lavoro ma anche e soprattutto sul giudizio che io avevo di me stessa e questa è una cosa di cui si parla poco ma il fatto che noi fibromialgici un po' all'inizio resistiamo non accettiamo, ci sentiamo che ci manca qualcosa, è una colpa gli altri riescono a farlo, io faccio fatica, gli altri vanno avanti bene io invece ho difficoltà quindi per me prima di tutto partecipare a questo progetto è stato veramente un percorso dentro me stessa diciamo è l'inizio di un'accettazione che mi negavo da tantissimo tempo e devo dire che temevo tantissimo l'uscita di questo lavoro perché sapevo che dovevo parlarne ma in realtà ho trovato veramente un affetto e un calore che non mi aspettavo quindi capisco tutte le persone che hanno paura di uscire allo scoperto però quando accettiamo veramente noi stessi per quello che siamo in questo caso anche con una malattia che ci influenza tantissimo in qualche modo tutto quello che è giusto per noi ci viene a cercare e per me è stato bello per questo perché per la prima volta recitare non è stato dovermi medesimare in qualcosa che non era mio ma è stato piuttosto rimuovere dei blocchi, delle maschere e andare proprio al cuore di quello che provavo è stato forte ma l'ho trovato un gesto di dichiarazione, di essenza di essere me stessa veramente anche con la mia malattia Grazie Cristina della tua testimonianza, sicuramente molto toccante come lo sarà il film che aprirà tante finestre sulle vostre vite anche in chi non è malato la domanda successiva è per Tiziana Buarino Tiziana organizza ogni anno il Festival Internazionale del Doppiaggio Voci nell'Ombra il 26 febbraio di quest'anno alla sua 21esima edizione che lei segue indefessamente è stato presentato appunto il trailer del docufilm allora noi ti chiediamo in questo momento di pandemia in cui sicuramente le persone magari non hanno voglia di contenuti appunto che non siano leggeri o di evasione che accoglienza ha avuto questo docufilm? che cosa ci puoi restituire rispetto appunto a un gradimento a commenti, a accettazione anche stiamo parlando anche di accettazione oggi da parte di chi recita ma anche da parte di chi guarda e siamo qui per questo proprio anche per far conoscere la malattia e quindi farla accettare anche da parte di chi non ce l'ha Intanto buongiorno a tutti e grazie per avermi invitata è stato un piacere includere il trailer del docufilm Ad Maiora all'interno della serata clou del Festival perché ne sono direttamente coinvolta in questa patologia purtroppo e quindi anche per me è stato importante dare un segnale durante questa manifestazione offrendo il nostro palcoscenico per sensibilizzare verso questa patologia ho avuto parecchie manifestazioni di come dire di empatiche e ci sono stati attori, doppi attori anche che magari se non affetti da fibromialgia comunque da altre patologie croniche mi hanno come dire ringraziata per includere all'interno di una manifestazione che ha a che fare con il cinema e con la televisione questo tipo di lungometraggio comunque di collegamento con il lungometraggio e anticipare la messa in onda di oggi è comunque, credo sia stato molto utile devo dire questo che è davvero importante che sia arrivato questo docufilm perché lo strumento del film o del lungometraggio o comunque dell'audiovisivo è fondamentale per far immedesimare lo spettatore nelle problematiche e quindi sono sicura che da adesso in poi forse avremo più facilità per far capire chi è così lontano da queste problematiche che cosa viviamo, con cosa combattiamo sia per affrontare la nostra quotidianità che soprattutto la nostra attività lavorativa ancora più quando sono attività lavorative così complesse come organizzare un festival o comunque svolgere professioni impegnative Io invece ho ancora una domanda per Federico perché innanzitutto complimenti perché da mamma, fibromialgica quindi unisco le due cose ho apprezzato moltissimo la tua sensibilità perché non è semplice diciamo però volevo chiederti qual è stata la difficoltà principale nel comunicare la malattia al pubblico? Ma come dicevo prima la cosa penso più difficile sia il fatto che non è diciamo una malattia che si può mostrare facilmente non è un documentario su malattie magari più note che danno segni visibili e quindi da un certo punto di vista è anche più facile è anche più comprensibile per le persone capire che qualcuno sta soffrendo di qualcosa e quindi la sfida è stata appunto far vedere come dicevo grazie a Cristina e a Marianna che ha fatto il make up nella parte diciamo di fiction ma nella parte invece principale dove sono state intervistate le varie persone i vari malati io ho lasciato diciamo campo libero di parlare per poter far sì che si esprimessero nel modo più sincero possibile potessero dire ciò che provavano è stata questa sicuramente la più grande sfida anche perché molte persone io immagino che guarderanno questo lavoro sicuramente molte saranno persone affette da fibromialgia che vogliono vedere come è stato trattato giustamente l'argomento ma immagino molte persone che non ne sappiano nulla io volevo appunto far sì che qualcuno capisse in generale questo argomento non in modo scientifico perché ripeto non è quello il mio approccio è proprio portare un po' nella vita di queste persone far capire quello che hanno passato e soprattutto quello che ha fatto l'associazione per migliorare per migliorare cioè la nascita dell'associazione per fare passi avanti e anche chiaramente tutti gli imprevisti che purtroppo ci sono stati chiaramente come si può immaginare ancora non è stata ufficialmente riconosciuta quindi spero che possa anche sensibilizzare in questo senso nel senso che possa permettere anche a persone con un certo potere con un certo potere decisionale di capire che non sono poche persone non è una malattia rara e comunque anche le malattie rare hanno assolutamente il diritto di essere riconosciute ma non è una malattia rara ci sono più di 3 milioni di persone per cui era questo che a me interessava e spero che possa essere possa essere stato inserito in modo efficace nel documentario che appunto vedremo fra circa una decina di minuti ecco bravo Federico hai toccato anche dei temi che toccheremo anche noi dopo quindi vi invitiamo a essere con noi anche dopo la trasmissione del film perché ci sono molte persone che possono darci delle risposte anche nel mondo istituzionale Federico ne accennava restando ancora sul film Cristina si parla di venire alla luce si parla di uscire dall'invisibilità il grosso tema della fibromialgia è anche un po' il grosso tema dei diritti civili persone che ci sono e che non riescono a far valere la propria esistenza il loro essere qui adesso io ci sono tu hai deciso di esserci hai deciso di palesarti di venire allo scoperto pensi di averlo fatto anche perché adesso il clima sta cambiando a livello generale tutti riescono nonostante insomma leggi ancora faticose hanno il coraggio di uscire allo scoperto di dire io ci sono questo è valso anche per te? Sì diciamo che io credo che ognuno abbia un suo percorso personale ma sicuramente l'ambiente intorno e l'area che si respira a livello proprio di educazione culturale sentimentale della società è importante perché il mio coming out ha un senso il mio parlare ha un senso se ho qualcuno che mi ascolta e non mi ascolta per giudicare o mettere in dubbio ma mi ascolta per accogliere quello che io provo per dire no ok condividiamo questo peso ti ascolto questo è diciamo un nodo per me molto importante cioè il fatto di educare le persone al non giudizio al non etichettare e al non mettere sempre in dubbio per noi fibromialgici è una battaglia purtroppo questa molto dura noi dobbiamo sempre giustificarci dobbiamo sempre come dire un po' alzare la voce per farci credere per sentirci veramente ascoltati e quindi sì per me era il momento giusto sia appunto per un percorso mio ma anche perché credo che si stia iniziando un po' a vedere il cambiamento proprio nella società probabilmente si sta ascoltando e si sta accettando di più e mi auguro che che questo percorso continui insomma ecco Tiziana invece io ho letto con grande interesse il tuo articolo e non ti nego che mi sono anche commossa da fibromialgico ovviamente e soprattutto quando dici leggo te suoi parole perché potrei commuovermi allora è importante che questo film sia visto dal più ampio numero di persone affinché quando incontrerete un fibromialgico possiate davvero comprenderlo nella sua dignità di malato che combatte ininterrottamente scusate anche se non vedete le sue cicatrici scusate ma come l'ho detto sono particolarmente interessata detto questo ci vuoi spiegare perché è così importante la visione di questo docufilm? è proprio per questo motivo sono quello che vi avevo già accennato prima è fondamentale perché fino a quando le persone non si immedesimano e lo strumento audiovisivo è proprio quello più adatto per far raggiungere insomma questo obiettivo non riescono veramente a capire e questo l'ho scritto cioè voi lo sapete adesso lo sapranno in molti di più che l'ho scritto perché purtroppo sono cose che provo e so anche perché provo anche questo che le persone attorno se anche mi conoscono bene non riescono ad afferrare quante sono le difficoltà che non sono sicuramente solo quella del dolore fisico con cui combattiamo tutti i giorni spero davvero che si possa creare una forte rete per proporre questo questo film questo docufilm nel maggior numero di cinema di cinema insomma ovunque perché davvero credo che possa essere una davvero importante vi dico soltanto questo che l'articolo è uscito su diari di cine club questo per ringraziare anche l'attestata perché non l'abbiamo menzionata grazie a tutti